Volevo concludere con una chicca di storia, giusto così, che non faceva parte di tutto però è bene magari sapere da dove arriva praticamente il cornetto, quindi la forma curva, arriva dalla bandiera turca. L'impero ottomanno nel 1683 voleva conquistare Vienna, la città non si fece conquistare, quindi resistette per oltre due mesi, nel momento in cui gli ottomanni fecero credere di andarsene, invece stavano scavando delle gallerie sotto per passare da sotto e prenderli di sorpresa, praticamente i cuochi che lavoravano di notte per cuocere e fare le provviste per il giorno dopo, c'era praticamente il turno di notte, si accorse di questo, diedero l'allarme e gli ottomanni praticamente non riuscirono nemmeno quella volta a entrare. Per sbeffeggiarli praticamente fecero i kipfel, perché il kipfel è austriaco, a questa forma di mezzaluna che era il simbolo della bandiera ottomanna e quindi si misero sopra ai muri della città a mangiarsi questa luna per prenderli in giro e vedevo non ci avete vinto e noi vi mangiamo. Praticamente nacque il kipfel, il primo pane in forma di cornetto. Poi l'origine, quando io mi sentite parlare di vinoiserie, che significa tutti i prodotti di prima colazione, sta di lì perché nel 1736 un ufficiale austriaco mise su a Parigi, in via Richelieu numero 2 a Parigi proprio, la prima boulangerie viennoise e tutto quello che veniva fatto lì naturalmente era preso il nome di viennoiserie, il kipfel, il francese vedeva questa cosa a mezzaluna che cresceva e croissant arriva dalla parola crescente, quindi il francese poi gli diede il nome croissant. In Italia arrivò due anni dopo, nel 1728 grazie a Maria Amelia d'Asburgo, proprio a Parma, in corso Garibaldi nacque la prima panetteria perché quando gli asburgici persero il dominio di queste città, il cuoco di questa Maria Amelia non sapeva cosa fare, misi su una panetteria a Parma e cominciò a fare i kipfel. Questa è la storia del francese. Applausi